Si è appena conclusa qui a Sedignano una riunione importante per quanto riguarda le comunità montane. Siamo insieme al sindaco Raffaele Colucci. Spieghiamo un po' di cosa vi siete occupati questa sera. Io ho colto con grande soddisfazione l'invito che mi hanno fatto gli operai, gli ottidi della Partenio, ma non solo quelli della Partenio. Stiamo assistendo in questo momento un grave atto di prevaricazione da parte della Giunta regionale e della Regione Campania perché proprio il 15 febbraio hanno deliberato la chiusura degli enti montani. Il che significherebbe non solo penalizzare le aree interne della Regione, ma significa anche non chiudere definitivamente una speranza per gli ottidi che sono oltre 1800. Significa tutti quegli operai che per otto anni sono stati precari e sono stati barbaramente utilizzati anche nelle diverse campagne elettorali, oggi si dice arrivederci e grazie e quindi penso che in un momento critico come questo significa mortificare le loro speranze e le loro famiglie. C'era presente un segretario regionale qui, quali sono le vostre iniziative? Intanto il 26 saremo tutti a Palazzo Santa Lucia a gridare le nostre ragioni. Noi ci sarò io come sindaco ma anche come rappresentante di insorgenza civile proprio per sostenere le loro ragioni. Ci auguriamo che il 26 esca fuori una proposta alternativa alla chiusura delle comunità montane. Poi vedremo, non è esclusa una protesta ad oltranza. In caso di chiusura poi saranno i comuni ad assorbire i vari dipendenti delle comunità? Beh, diciamo la proposta sembrerebbe quella di assegnare il tutto ai comuni ma temo che sia l'ennesima imboscata per dividere questa forza lavorativa degli operai che sono oltre 4.000 in regione Campania per poi mandare tutto a Macero. si inventeranno qualche altra leggina e tutti questi operai saranno a casa senza avere poi la possibilità di fare causa alla regione. Quindi è un modo sofistico per licenziarli. Insieme a noi ci sono anche degli operai a tempo determinato. Abbiamo qui il signor Napolitano Michele, giusto? Cosa chiedete voi al Presidente regionale o al Presidente della Comunità Montana? Qual è la vostra condizione? Niente, alla regione Campania noi chiediamo la certezza del nostro futuro perché non possiamo stare lavorare e non lavorare. Noi non siamo nemmeno un precario sono io perché non lo so se vado a lavorare quest'anno o non vado a lavorare. Come invece ne sono, a parte 110 dell'Apartenio, oggi c'erano anche gli amici colleghi della provincia e anche di altre comunità montane. Ne siamo 2.000 in regione Campania. 2.000 operai a tempo determinato che adesso, in questo momento, non sanno se andranno a lavorare o no. E questo è la regione Campania. al Presidente della Comunità Montana chiediamo di prendersi le sue responsabilità. Cioè lui è un politico e la politica sta vicino agli operai. Cioè mettersi a fianco a noi e lottare con noi. No stare là ad aspettare se la regione ci manda i soldi e ci fa lavorare. Se non ci manda i soldi non ci fa lavorare. Cioè a questo punto non lo so se fa il politico oppure fa il ragioniere. Perché il politico è quello che si prende gli impegni, si prende i problemi della gente e cerca di risolvere insieme a loro. Questo chiediamo. Anzi, lui è stato come Presidente, noi non avanziamo nessuna mensilità, ci ha pagato. Quindi non è che è stato male. Però chiediamo un impegno più maggiore nei confronti degli operai a temo determinato. Ok, noi ringraziamo il Sindaco Raffaele Colucci, ringraziamo il rappresentante degli OTT e vi auguriamo che tutto vada per il meglio.